La Società Provinciale Ecoambiente Salerno, in qualità di gestore dell'impianto stile di Battipaglia, con apposita nota pubblicata sul stile del Comune di Battipaglia, ha comunicato a tutti i comuni della provincia che, a causa del fermo manutentivo del termovalorizzatore di Acerra, vi è stata una riduzione del conferimento dei quantitativi dei rifiuti indifferenziati di circa il 40%. Tale situazione, quindi indipendente dalla volontà dell'amministrazione del Comune di Battipaglia, sta generando dei ritardi sulle regolari operazioni di raccolta da parte della società Alba, soprattutto della frazione del secco indifferenziato. La sindaca giaciria francese invita tutta la cittadinanza a limitare l'esposizione del secco indifferenziato che viene raccolto il giorno del martedì, differenziando di più e meglio nel rispetto delle modalità stabilite. In ogni caso si informa alla cittadinanza che si stanno adottando tutte le necessarie misure organizzative finalizzate a limitare i disagi conseguenti.